Come si dice in televisione non andate via, nel senso che concludiamo la serata con un fuori programma perché non è stato scritto, che è ancora un omaggio a Offenbach, speriamo che chiuda la serata in festa, non vi dico altro perché è un pezzo che sicuramente riconoscerete. Aspettiamo che il nostro Peter si prepari. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.